Siamo sempre in compagnia delle prime pagine del primo capitolo del Vangelo di Marco, che ci presentano Gesù nei primi giorni di predicazione di vita pubblica. Sia chiaro che i Vangeli non sono il diario di bordo di quanto Gesù faceva e diceva ogni giorno, giorno dopo giorno, sono stati redatti solo molti decenni dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Di conseguenza, quelle pagine sono frutto di un lungo periodo di comprensione, di rielaborazione dell'esperienza di fede dei primi cristiani e degli apostoli che fecero esperienza di lui. Magari più in là dedicherò una parentesi, un audio, proprio riguardante la redazione dei Vangeli, in particolare quello di Marco che leggeremo quest'anno. Dalla sinagoga che abbiamo visto ieri, ambiente nel quale era venuta la guarigione dell'uomo indemoniato, oggi passiamo ad un ambiente domestico, familiare. Gesù va a casa di Simone e di Andrea, che erano fratelli. In compagnia di Giacomo e Giovanni. E come arrivano a casa, i due fratelli li parlano di un problema. La suocera di Simone, cioè quello che poi diventerà Pietro, era letto con la febbre. Non credo naturalmente che fosse l'influenza che ha venuto e che sta tenendo tante persone a letto di questi tempi. Comunque non stava bene, a tal punto che doveva stare a letto. E quando una donna sta a letto e non fa più nulla per la casa è perché sta davvero male. Non è come noi uomini che alla prima linea di febbre ci fermiamo e crolliamo. Cosa ci insegna questo brano? Beh, che Dio è vicino. È presente non solo nei luoghi religiosi, quali le chiese, i santuari, ma abita anche nelle nostre case. Là dove ogni giorno si vivono situazioni di gioia, ma anche di fatica, di prova. Dio non è solo il Dio delle chiese, dei templi, delle liturgie, ma anche delle case, della vita domestica. Questo è bellissimo. Dio agisce anche tra le mura delle nostre case, non solo in chiesa. Come vi ricordavo lunedì, Gesù stesso ha vissuto decine di anni tra le mura domestiche, condividendo con la sua famiglia le faccende di ogni giorno. Primissimo suggerimento. Affidiamo ogni giorno a Dio quanto viviamo tra le nostre mura di casa. Facciamolo pregando anche insieme, in famiglia. I genitori con i figli e ogni sera, non so, marito e moglie preghino per ciò che vivono a livello di coppia, come i genitori. Impariamo a pregare tra le nostre mura di casa, per ricordarci che Dio abita con noi. Non se ne sta fuori rinchiuso nella nostra chiesa parrocchiale. È molto significativo che Gesù entra in casa di Simone e Andrea e non ha subito visto la suocera di Simone. Molto probabilmente la donna era in un'altra stanza e dopo qualche attimo i due li parlano di lei. Ma a Dio li diciamo mai ciò che viviamo in casa? Qualcuno dirà, beh, se Dio lo saprà già che cosa viviamo, no? Ma sì, è vero, ma fa bene a noi dirglielo, dirgli ciò che abbiamo dentro, confidarci, aprirci, sfogarci. E se è il caso anche arrabbiarci con Lui. Diciamo a Dio ciò che viviamo tra le mura di casa. Non teniamo, non viviamo nel silenzio, in una sorta quasi di omertà, dove non ci diciamo i problemi, non li diciamo a noi stessi e neanche a Dio. Il brano poi ci rivela, nella sua seconda parte, dopo la guarigione della donna, che Gesù in quella casa si è fermato a dormire. Infatti si specifica che al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Gesù ha dormito in casa di Simone e di Andrea, quale onore! E guardate che questo però viene in ogni casa. Il problema è che spesso Gesù, noi lo lasciamo soltanto dormire, nel senso che non lo svegliamo, cioè non lo coinvolgiamo nelle vite delle nostre famiglie. Lo lasciamo dormire, dimenticato in qualche stanza della nostra casa, come il presepe che riporremo nello scatolone fino al prossimo Natale. Lo lasciamo dormire perché siamo troppo indaffarati in altre faccende, e invece Dio va svegliato e coinvolto ogni giorno, la sera, prima di andare a dormire, per ricordarci che riposa con noi, che alloggia con noi, nella nostra casa, e al mattino per dirgli di partecipare alla nostra giornata con le sue bellezze, fatiche, imprevisti. Eh, ma al mattino non c'è tempo per pregare. Devi svegliare i figli, prepara la colazione, prepara mille robe, altro che svegliare Gesù. Si inizia la giornata già di corsa, altro che pregare. Ma io penso che cinque benedetti minuti, prima di cominciare il deliro della giornata, è forse abbastanza facile trovarli, cinque minuti prima di scendere dal letto, durante i quali ci facciamo un segno di croce, invochiamo lo Spirito Santo, leggiamo due righe di parola di Dio e affidiamo a Dio la nostra giornata con le nostre parole. È veramente una roba impossibile da fare. No, non è impossibile, dobbiamo solo scoprire nella bellezza. Cinque minuti al mattino non sono impossibili. Dovemmo solo scoprirne la bellezza, l'importanza, scoprire il fatto che ci fa, che quei cinque minuti ci fanno bene, ci cambiano la prospettiva sulla giornata intera. Se ne scopriamo la bellezza, l'importanza, non ne faremo più a meno, anzi punteremo la sveglia dieci minuti prima, pur di avere quei dieci minuti di incontro con Dio. Buona giornata a tutti.